Ma ci hai fatto un brutto suono. Diciamo che i numeri c'è no, che dei suonate. I morti tornavano, ma trascinavano con loro sotto terra. I morti che tornavano sono 47, sotto terra è 5. Ma con l'ambo non prendiamo niente, c'è no, ci serve un altro numero. Dicami che ti tradisci, sembra un amico, ci rompe. 71, l'home è merda. A presto.